I numeri si tirano come uno vuole, posso dire che parlando con le comunità ti dicono che l'80%, i soldi che guadagnano 60% dello stipendio lo mandano in Paese d'origine, questi soldi vengono a mancare sul territorio, fanno minore spesa, fanno minore giro di capitale e un pochettino contribuiscono anche alla crisi, i crisi che aggiungo una cosa, adesso non c'è tempo di sviluppare il ragionamento, che conosco piuttosto bene, diventerà un problema enorme nel momento in cui ci sarà in qualche zona, qualche distretto produttivo nei quali la cassa integrazione diventerà pesante, seguirà in qualche caso oltre a cassa integrazione anche il licenziamento vero e ci saranno, perché questi già li vediamo, molti extracomunitari che non avendo invece radici fondati sul territorio, lavoreranno con meno o meno i punti e minore garanzie, andando a fare concorrenza sul posto di lavoro ai nostri che rimarranno senza e questo sarà un problema, colpa anche di che non ha voluto affrontare per 20 anni una regolamentazione seria dell'ingresso in questo paese, su questo bisogna, dovremmo fare, io non vorrei le baglioli in contrario con i nostri che vanno a lottare per il posto di lavoro o mettendo ferro fuoco alle città, però ci stiamo preparando con ammortizzazioni sociali pesanti, tu sai che il fondo di Sacconi di 800 milioni di Euro che era quello garantito per ammortizzazioni sociali abbiamo già portato 8 miliardi, 10 volte tanto per il 2009 e l'obiettivo è portarlo 17 miliardi, Tremonti sta tagliando tutto tutti perché vuole avere i soldi per riuscire a garantire lo stipendio alle famiglie in difficoltà, credo che sia molto serio… Ma per il Banlio che diceva che lui è preoccupato… All'incontrario, all'incontrario, perché? Fammi dire, aspetta, ho fatto delle pillole, non volevo sviscerarle tutte perché mi sa che il tempo non ci sarà, però quello che voglio dire, stiamo partendo però nel ragionamento, abbiamo trovato molti punti di discussione serie, franche e responsabili adesso, però è la denominazione ai nuovi italiani che non mi piace, dico perché… E' da rifare il… No, lo dico perché in maniera un po' provocatoria… Quando apriranno un dipartimento nella Lega ne discuteremo con loro… No, i dipartimenti non sovano niente, ci vuole concretezza e cose immediate… Infatti noi su questi punti ci siamo imboccati le maniche, i nostri amici della Lega… Sai perché a noi piacciono, veramente abbiamo trovato punti in comune, perché hanno certe espressioni molto colorite, noi diciamo, spezziamo la schiena, ce l'abbiamo duro, picchiamo qua, buttiamo amare… Io parlo di certi esponenti, eccetera, ma noi per carità l'abbiamo accettato, fino al punto delle offese, quello ci ha dispiaciuto un attimino, il problema è di toccare le regioni, i maiali davanti alle moschee, tutte queste cose qua che fanno solo male, per fortuna riguarda una parte di certi personaggi, ma il resto dalla Lega ha dimostrato, io per esempio ho ottimi rapporti con il segretario della Lega, a Parma con il quale abbiamo risolto moltissimi problemi lavorando in comune, umilmente, anche qualche volta praticamente facendo pressione ognuno al suo interno e abbiamo raggiunto ottimi risultati, il problema fra di noi dobbiamo veramente parlare seriamente su quello che riguarda le problematiche, guardi per esempio la legge sui medici, loro dicono che i medici, solo volevo finire questo, i medici praticamente devono denunciare i clandestini, noi abbiamo detto a loro state attenti, tre elementi sono fondamentali che vi devono impedire di farlo, prima noi viviamo in una società dove c'è la solidarietà, l'insegnamento cristiano, religioso, non si nega mai un diritto ad un malato che sia clandestino, che sia regolare, nero, bianco, malato, malato, noi dobbiamo dare questo diritto. Secondariamente, se andate a prendere praticamente questa strada qua, ci troveremo con dei malati clandestini che lavorano nelle pizzerie, che nella paura di essere denunciati non si fanno curare e vanno ad attaccare la malattia a tutti gli altri. Terzo elemento, e i miei amici della Lega lo capiranno, terzo fondamentale, seguendo la vostra strada nasce una delle persone che si curano presso i clandestini, ambulatori paralleli, quindi per fortuna hanno fatto marcia indietro su quello che riguarda questo, poi hanno fatto marcia indietro su quello che riguarda prendere il DNA dei clandestini, poi il reato della clandestinità, voi vi ricordate l'escoli, i bambini non possono andare agli asili perché hanno una mamma clandestina, cioè troppi slogan pian piano si sono sgonfiati davanti alla ragione. Perché ad Alessandri non piacciono i nuovi italiani? Sulle DNA c'è la possibilità di poterlo prendere, sulle classi ponte siamo andati avanti, sui clandestini non molliamo e ti spiego perché. Clandestinità per noi deve diventare reato, certo deve passare attraverso la costruenza che l'Europa te l'accetti, l'ho spiegato prima perché sarà difficile, ma Marroni è impegnato quasi esclusivamente su quello, la clandestinità in questo paese deve essere un reato, poi il percorso non è semplice, avremo mille ostacoli e bisogna che cominciassero anche i migrati a darci una mano, quelli che dicono di voler seriamente rispettare le regole, perché questo paese qua non è ammissibile, però io dico sempre una cosa, se il migrato mi racconta delle cose, come sta raccontando adesso amabilmente lui, io ho smesso di crederci, perché poi alla fine della fiera, l'unica prova provata, se uno vuole dimostrare qualcosa, lo dico anche a volte per i nomadi, siamo bravi, non è vero che tutti rubiamo, bla bla bla, tutte chiacchiere, dimostratemelo, denunciate voi i clandestini e lo dico sempre ai nomadi, dietro il campo i nomadi, denunciate qui a rubato, perché questo non avviene mai, alla fine sono tutte belle intenzioni, ma di fronte al lato pratico siamo sempre noi cittadini che dobbiamo autotutelarci di fronte a questo, quindi non è razzismo, non sono slogan, non sono battute. Ma vedi, la parola, denunciate voi, denunciate gli altri, ma questo dobbiamo andare veloce a dati delle pillole, perché ognuna di queste cose qua bisogna affrontarle in una trasmissione e non c'è tempo, sulle questioni dei medici è previsto fin dall'inizio che non c'è l'obbligo di denuncia, ma un medico se è in coscienza… All'inizio c'era l'obbligo, l'obbligo non c'è mai stato, la proposta di legge ce è stato cambiato con l'avvisare l'autorità medica invece che la polizia, ma non c'era l'obbligo… Cioè il medico se non è, avvisa e quindi è un obbligo di avvisare… No, non c'era l'obbligo, neanche all'inizio, era la facoltà del medico… Proposta di legge… Vabbè la proposta di legge, tu sai bene quanto valga la proposta di legge, mentre invece il decreto… Proposta di legge, la proposta di legge che spesso non va nessuna parte, il decreto legge che ha un emendamento, il emendamento è partito fin dall'inizio in un'altra maniera, però potete dare la facoltà anche a quei medici che non vogliono fare politicizzati… E classi separate… E classi separate… E classi separate sono già partite, sono realtà, per cui questo non mi ha fatto nessuna martedì… Classi separate, è un'altra cosa… No, prima avete parlato di classi separate… Classi separate abbiamo fatto… No, 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 classi separate, ecco perché dicevo, i miei amici della Lega fanno di slogan, poi pian piano cambiano un pochettino, per esempio il fili di grandestini che non possono andare agli asili, anche questo l'avete proposto fuori, allora noi abbiamo detto una mamma che suo figlio lo guarda e dice, mamma perché io non posso andare all'asilo a tutti gli altri, perché sua mamma, chiamiamola clandestina perché si è sposata con un uomo, non ha ancora fatto il permesso di soggiorno per lei, quindi è una cosa che grida vendetta a Dio, hanno cambiato, hanno capito e l'hanno cambiato, non abbiamo capito, così sono tutte le strumentalizzazioni, noi semplicemente per la clandestinità dobbiamo fare un passaggio in Europa, perché è vent'anni che i governi italiani, compreso la nuova applicazione della Bosse Fini che è diventata un problema enorme, noi abbiamo investito 5 anni su quella, poi se non viene applicata ai magistrati ci ha obbligato a dover ricominciare da capo. Quindi dobbiamo seguire l'Europa, giusto? Certo, se l'Europa si vede davverso. Me lo prenda per favore con l'Europa, allora il diritto al voto esiste in tutta l'Europa, l'avremo il diritto al voto, amministrativo. Io faccio 10 anni chiedendo la cittadinanza, mi fai dire quello, io capisco che di fronte a questi commenti qua tu vuoi fare tanti bei discorsi come NIC, hai cose concrete e fai fatica, però mi fai dire quello che ti voglio dire, nuovi italiani non può starci per un semplice motivo, nuovi italiani è uno che ha accettato di chiedere la cittadinanza, fa 10 anni un percorso, come fanno tutti gli altri paesi, c'è un percorso da fare e accettare di non essere più cittadino siriano, pakistano, magrebino, iraniano, cinese, sudamericano, ma diventare cittadino italiano, a quel punto lo chiama il nuovo italiano, se uno è immigrato e gli regali il diritto di voto, che è il patto sociale di Rousseau, quello fra lo Stato e il cittadino, e tu lo butti via come una cosa da regalare a chiunque, che neanche se ha assunto dei doveri nei confronti del paese che viene ospitato, ma continua a mantenere quelli del paese da cui viene, qui salta completamente il paese, allora noi dobbiamo dire, il cittadino italiano non sarà il gioco che voleva l'Udc, che voleva la sinistra con l'Amato Ferrero facendo sparire i clandestini, perché gli danno la patente a regolare, danno gli anche dei soldi, ti parlo delle proposte di Amato Ferrero, che non appartengono assolutamente. Però il gioco a cui anche Fini e anche Casini hanno sempre accennato era quello, arrivare a dargli diritto di voto senza che siano cittadini di questo paese, e questo non è accettabile, ascolta fammi dire, è fammi dire, mezz'ora ci sto provando, allora dagli diritto di voto a gratis, a nessuno, bisogna pretendere che uno faccia un percorso, quando ha fatto 10 anni seglierà se il suo futuro è ritornare a casa sua o rimanere qua, io ho visto le primarie del PD, è andata a votare gente, qualcuno ci ha anche chiacchierato al bar perché mi è capitato di trovarli, e andavano a votare perché la Caritas o la CGL gli aveva detto di andare a votare, e vanno a incidere sulla scelta di un candidato sindaco in questo caso, che magari diventerà sindaco senza sapere nulla del paese in cui stanno vivendo, ma questo è allucinante, facciamo un percorso, pretendetelo voi per primo.